Andare in cerca di tartufi è un'attività che non può essere limitata e vietata se fatta rispettando le leggi e può essere esercitata su qualunque terreno non privato. A stabilirlo una sentenza del Tarmolise che ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Massimo Romano per conto di numerose associazioni di tartufai abruzzesi e molisani contro la tartufaia controllata di San Pietro Avellana, dove era accaduto che il comune del paese con lo scopo di impedire l'accesso ai cavatori forestieri con il consenso della provincia di Sernia aveva recintato e concesso ad una locale associazione un appezzamento comunale di ben 37 ettari e mezzo, una decisione che aveva fatto infuriare i tanti cavatori provenienti anche dall'Abruzzo che hanno deciso di impugnare al TAR tale provvedimento riportando una bella vittoria. Il TAR ha condiviso la nostra tesi e ha per l'appunto accolto il ricorso e annullato gli atti sul presupposto che trattandosi di terreni comunali quindi di beni pubblici suscettibili di sfruttamento economico fosse necessaria una procedura concorrenziale per l'individuazione del soggetto diciamo così aggiudicatario della stessa gestione. In accoglimento di questo principio ha statuito per l'appunto delle regole di carattere generale che varranno sicuramente per il caso di San Pietro Avellana ma probabilmente riusciranno a porre un freno anche alla proliferazione dei tartufai controllate su tutto il territorio nazionale ciò che lede e ciò che viola un principio di ordine generale che per l'appunto quello della libera ricerca del prezioso tubero. Una sentenza quindi che porterà un po' d'ordine nella materia anche a livello nazionale e segue un altro pronunciamento del TAR Molise del 2013 sempre patrocinato da Massimo Romano e sempre contro il comune di San Pietro Avellana. Anche in quel caso il TAR annullò gli atti proprio sul presupposto che il fine pubblico perseguito da quei determinati provvedimenti che avevamo impugnato fosse diverso da quello in qualche modo dichiarato cioè anche in quel caso la finalità era quella di creare delle riserve soltanto in favore di determinate categorie di titolari di tesserino di tartufo cioè dei residenti a discapito dei forestieri cioè a discapito dei non residenti. Il principio che fu sancito tre anni fa e viene confermato oggi è che è discriminatorio quindi illegittimo limitare la possibilità di fruizione di un bene sostanzialmente collettivo di un bene pubblico sulla base del criterio della residenza.